Sportivi, bentrovati in un nuovo episodio di Crash Royale, che passione! Come avete visto dal titolo, no non l'avete visto, però andremo a fare il chest opening più grande e soprattutto più importante della storia del mio canale. Cominciamo con il profilo di Riun, che ci riserva oro, 144, frecce, poi barbari, quasi potenziabili, goblin e... beh, buono, buono, torre bombaiolo. Andiamo avanti, come vedete sono molto in ritardo, quest'oggi gemmerò tutto per farvi contenti. Oro, scheletri e torre invernale. Andiamo ad aprire, andiamo ad aprire questo argentone. Oro, goblin e torre... ahia, quante torri sto trovando! Eh, purtroppo devo farlo, devo farlo per voi amici ascoltatori. Oro, scheletri e moschettiere. Inizia e fai... Che ci riserva? Oro, io ho niente gemme, moschettiere, che chest opening deludente, ragazzi, amici ascoltatori, torre bombaiolo, capanna goblin e l'ultima niente, orda di sgherri. Tutte carte che non uso. Oro, baule della corona, gemme, orda di sgherri, un'altra volta, scheletrini, moschettiere... E il principe è sbloccato! Voglio un milione di likes! Un milione di likes, signori, per questo principe, che dal prossimo aggiornamento, lo ricordo, amici ascoltatori, verrà potenziato. Gli verrà aumentato un po' il danno. Amici, questo chest opening è andato da Dio. È andato veramente benissimo. Vorrei ringraziare... Ah, non ce la faccio a potenziare questo. Non ce la faccio a potenziare questo, amici ascoltatori, mi dispiace, però... Però è andato veramente bene. Come potete vedere, sono arrivato a 1321 coppe. Che, come possiamo vedere, è il record. È il record mio personale. Ma perché questo qua è... Eccolo, amici ascoltatori. Abbiamo trovato il principe. Lo andrò a mettere probabilmente al posto di... Non lo so. Devo vedere. Amici ascoltatori, pensavate che la puntata finirebbe qui? Invece no. Perché... Potenzio, no. Perché c'è una novità. C'è questo super baule, super ultramagico. Qui ci possono uscire 17 epiche. Al limite anche 18. E ricordiamo la regola. Se dovessero uscire 17 o 18 epiche prima dell'ultima carta... Cioè, quando qua sarà scritto 1, la carta successiva sarà la leggendaria. Questa è una legge non scritta, ma è comunque una legge. Baule della corona è andato un po' malino. Ora, gemmiamo tutti i bauli qua sotto? No, 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 sto scherzando. Sto scherzando. Era una piccola burla. Mi stavo burlando di voi, amici ascoltatori. Andiamo a potenziare qualche carta. Come vedete, questo ha il minatore. Questo è il profilo di Davide98. Entrate nel mio clan e lo potrete sfidare. E potrete prendere anche voi le mazzate da lui. Come vedete, lui ha un mazzo veramente bastardissimo perché batte di tutto e di più. Potenziamogli il bombarolo, tanto ora lui non ci sta vedendo. Potenziamogli le arcieri. Bene, amici ascoltatori. Andiamo ad aprire questo baule super, baule super magico. E ricordiamo la regola. Se dovessero uscire 17 o 18 epiche prima dell'ultima carta... Sarà la leggendaria, amici sportivi, 3100 euro. E già esce il principe nero. Già siamo a uno. No, già siamo a uno. La prima carta... Oddio, le guardie! Cristo santo, le guardie! 400 frecce. Porco, due 400... Aspetta, siamo a 5, però 400 frecce... Praticamente sono finite già le carte. Già le comuni. Perché 400 frecce ne escono 522... E le rare? Escono 522 carte in totale. Ne sono già uscite 400. Oh mio Dio! Sei volmile! Cristo! Non ci posso credere! 5, 6 fa 11. 11. Aspetta, stanno uscite troppe, troppe... Troppe epiche. Allora, 6 e 5 fa 11. Mancano 6 epiche in due tentativi. In due tentativi dovrei... Se troviamo 6 epiche... Ragazzi voglio almeno 1000 likes. Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Ragazzi! Sei epiche! Sei io! A due carte dalla fine! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! 104 fornace! Aspetta, voglio farlo io! Oh! Voglio farlo io, signori! Signore e signori! Mi voglio... sta come si sta registrati signori e signori mi voglio riprendere insieme per questo gesto obblig della leggenda se è la principessa voglio se è la principessa porto due porto demonio aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa la leggenda si signori la leggendaria in diretta la leggendaria in diretta ve lo screen ve lo screen ve lo screen sono uscite 18.000 epiche una dopo l'altra signori signori 100 200 300.000 like non lo so signori senza neanche 1 euro senza neanche 1 euro 1300 danno ad aria cioè con la con la furia diventa una roba allucinante sono uscite le guardie è uscito il principe nero ragazzi una dopo l'altra sei fulmine sei fulmine la veleno signori signori la veleno al quattro la veleno al quattro porco due la veleno al quattro tra poco quando ne mancano quattro vediamo se sta al negozio no non ci sta signori non me l'aspettavo che lo trovava al primo colpo sono uscite 10 epiche una dopo l'altra signori non vi chiedo mille like ve ne chiedo mille e dieci per questo gesto opening 5000 monete e qua intanto stiamo per salire al livello 9 mamma mia mamma mia signori ci vediamo al prossimo video però questo rimarrà il video principale del mio canale per molto tempo non 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 non